Conferita ieri pomeriggio la cittadinanza onoraria al 183esimo reggimento paracatudisti Nembo alla presenza del comandante della Folgore, generale Roberto Vergoli, e del colonnello Vincenzo Zampella. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, infatti, alcuni reparti del reggio esercito iniziarono a combattere al fianco delle forze alleate anglo-americane nel corso della guerra di liberazione. Il 13 giugno 1944, la Nembo, costola del Corpo Italiano di Liberazione, secondo i registri militari presenti nell'archivio storico comunale, riuscì a liberare la città di Penne, vincendo le resistenze tedesche grazie ad un'operazione militare pianificata dai paracatudisti e motociclisti proprio della Nembo. È una data dunque importante per la comunità pennese, che tornò libera dopo mesi di sofferenza e distruzione. A Penne è stato fatto un atto di vera giustizia. Finalmente, in Italia, il popolo italiano riconosce, storicamente documentato, quanto hanno fatto le forze regolari del nostro esercito nella liberazione di buona parte, non solo dell'Abruzzo e delle Marche, ma dell'intera Italia. Quindi, quanto fatto qui a Penne è un bellissimo punto di inizio. La cittadinanza onoraria al 183esimo gruppo Nembo era doveroso per quello che hanno fatto il 13 giugno 1944, liberando Penne dai gruppi nazifascisti presenti sul territorio. Abbiamo voluto ristabilire quel legame, un legame forte tra la città di Penne e tra chi, in maniera volontaria e soprattutto con determinazione, ha voluto ristabilire la pace, la fratellanza e soprattutto riportare gioia dopo mesi e mesi di sofferenze.